Roberto Soggiu, gli altri amici che oggi purtroppo non sono con noi ma poi c'è Perché questo è come sapete per noi un momento molto importante Ogni anno ci sono le nostre stagioni Abbiamo conoscere i collaboratori che costruiscono la creazione proprio bene Noi sono più bassi, con molte difficoltà Poi siamo usciti da questa ripresa con grande energia del 2020 Peraltro non siamo mai fermati, come sapete L'anno scorso ordine il mondo dello sport, il mondo della stanza, gli sponsor E soprattutto molto femminili come percentuale rapporto tra l'altro E la metamoratura mi va a Mestre Per chi si pareva giusto che Mestre dopo 37 anni andiamo all'istante dei Anders Per questa meravigliosa distanza dell'anno con Stefano e 30 anni con figli altri Poi abbiamo assolutamente... Siamo comunque anche in diretta sui nostri canali social E quindi la conferenza stampa è vista non solo da noi che siamo qui Siamo anche con la Lint, abbiamo raccolto milionate Ma non perché noi siamo... Grazie a voi perché se siamo qua ancora quest'anno Se direi senz'altro di avere qui con noi magari tutti assieme Poi viene il nome di tutta la comunità di Lido 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 Anche lui lo si Bene Siamo insieme che torna alla diretta tv Ci mettiamo assieme la mezza maratona Che parte dal versetto intensificata in questi mesi Che è davvero importante Quindi anche questi eventi si fanno grazie a loro e anche grazie a loro Piero prima ha ricordato qualche evento che è stato fatto, ha dimenticato di dire anche la Polipè e il Milo di Mestre. Dov'è, dov'è. Andando avanti, passiamo la parola adesso a Venezia. Passare per tutti gli ambienti, i luoghi, le città e le caratteristiche di questo territorio. Quindi come siamo passati per la notte, la direttrice della villa, l'architetto Tega che veramente assieme al direttore Ferrara. Agli atleti che partecipano, quindi insomma vogliamo ancora valorizzare il nostro forte legame. Mettiamo in evidenza il connubio, maratona, ormai sappiamo insomma essere estremamente... Abbiamo loro degli esempi dietro il sacrificio, la condivisione, la contattività, lo faremo negli anni precedenti, è arrivato quest'anno, lo faremo soltanto al mondo dell'impresa, alla cultura dell'impresa, ma lo faremo su due grandi gambe. L'accessibilità che non è solo fisica, quindi sicuramente il fatto che il percorso sia eccessibile è importante, ma l'accessibilità... Un invito che è questo, di visitare la pagina della maratona e dei link che ci sono anche con le nostre pagine della regione. Prima vado a trovare il nostro stand, che non sarà difficile da identificare nell'area e il secondo, vedo che... ...che servirà a aumentare il nostro parco pulmini, perché vediamo un parco di pulmini che partono i pazienti... Correrà la 10 chilometri domenica mattina... ...la 10 chilometri, gli altri 6.500, ci sono coinvolte quasi 70... ...gli atti sociali c'è anche Semi Basso che lancia un messaggio importante a tutti... ...perfetto, siamo in ordine, disciplinati e soprattutto felici, stanchi... Bene, grazie a tutti!